Grazie a tutti. Non si prende la distanza, si prende la vicinanza. Tu arrivi dentro la mostra, senti le radio che mandavano i discorsi del luce e ti pare di essere ai tempi in cui mia madre era una piccola italiana. Cioè una ricostruzione così totale che non devi sentirti nella condizione di dire io sono antifascista. Paradosso è che io ho voluto, nell'asse d'entrata, un giovane palilla che alza la mano e fa così e l'autore si chiama Salvini. Grazie. 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 Grazie.